Ha fatto tappa Villa Dossola il secondo degli appuntamenti promossi dalla Caritas di Novara con il mondo del lavoro. Ieri lunedì Monsignor Franco Giulio Brambilla ha incontrato i lavoratori della Vinavil, la fabbrica chimica di Villa Dossola. Alla vigilia del primo maggio era toccato ai lavoratori della sanità incontrare il vescovo. Dopo la messa celebrata nel piazzale della sede Asla di Novara, ieri la funzione religiosa è stata celebrata a Villa Dossola, un luogo dal forte valore simbolico e lavoro manifatturiero italiano. Oltre ai lavoratori a Villa Dossola ad accogliere il vescovo c'erano il sindaco Bruno Toscani e il presidente e il vicepresidente della provincia del VCO Arturo Lincio e Rino Porini. C'era anche Adriano Sarazzi, Villa Dossolese doc, imprenditore di successo, l'incontro nella Chiesa del Cristo Risorto per un momento di raccoglimento e la preghiera davanti al monumento che ricorda i caduti al lavoro, un simbolo importante per la città operaia e che nel 1967 vide Aldo Moro inaugurarlo. A margine del momento religioso è stata ricordata anche la figura di Giorgio Squinzi, ideatore della rinascita dello stabilimento ossolano. Da Villa Dossola si è levato alto l'appello del vescovo al mondo imprenditoriale e locale. Create le condizioni perché i giovani possano rimanere in questa terra. Grazie.